Sistemeremo le vostre metti, te lo prometto. Batman ha sconfitto Firestorm, poi Superman è riuscito a tirare un pugno a Swamp Thing. Ora c'è la seconda scelta alternativa in questo undicesimo capitolo della modalità storia di Injustice 2. Se l'altra volta Superman ha eliminato Swamp Thing, ora guardate che succede quando seleziono Batman per affrontare sta cosa di palude. Superman tiene occupati quei Batman. Arrivederci a tutti, un bacione e un ciao da Gabriosta. Mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e condividete. Capite? Cliccate sul mi piace e condividete questo video. Fateci sapere cosa ne pensate. Grazie. .